Allora, siamo qui nel teatro vuoto bellissimo di Ascoli Piceno, teatro Ventidio Basso, un nome di un condottiero romano, immagino. I teatri sono chiusi, ma noi vogliamo essere a voi vicini e non c'è modo migliore, secondo me, di questo spettacolo, lettura con accompagnamento di arpa celtica e armonica a bocca e le parole di una grandissima donna, giovane donna, una maestra di vita che può illuminare i nostri passi e confortarci e darci grande forza in questi tempi bui. Allora, non perdetevelo per nessuna ragione al mondo e siate con noi per Deve trattarsi di autentico amore per la vita. Etti Hillesum